Selve a tutti ragazzi, selve a tutti si ritorna sul tubo ragazzi si ritorna sul tubo e niente si ritorna sul tubo adesso direttamente dal mare, direttamente dalla Calabria si ritorna sul tubo per parlare dell'arrivo di Romero Lukaku all'Inter, in tarda serata dovrebbe atterrare a Malpensa, stavo dicendo che a Malpensa invece non sono a Milano, non sono a casa mia, sono al mare, mi sto rilassando e niente, sono contento perché nonostante mi stia rilassando, nonostante sia in vacanza, prendo questa notizia di Romero Lukaku all'Inter dato che anche oggi a Studio Sport, io non guardo Studio Sport, però mentre mangiavo mentre mangiavo, avevo la televisione sul 6, mentre mangiavo tranquillamente si parlava di paratici che vuole fare, vuole cercare di prendere, di vendere Dybala per Lukaku, di quagli anni, loro davano già per fatto l'aiuto e bastava piazzare Dybala perché tanto o al ottenammo da qualche altra squadra inglese, Dybala andava sicuro perché Dybala lo prendono sicuro perché è il nuovo Messi, peccato che lo vogliono sbattere fuori ovunque, anche se secondo me Dybala è un bel giocatore, è allegri che non ci capiva un cazzo, magari con Sarri ci può capire qualcosa, o magari si è arrivato per lo scambio con Riccardi, chi lo sa, ma io sarei contento, Dybala e Nerazzurro a me farebbe piacere, a voi non lo so, poi vabbè volevo fare i complimenti a due persone che fanno i video, un giornalista e un'altra persona che fa i video su Youtube, volevo fare i complimenti a Fabio Bergomi a Cristian recalcati perché loro avevano ragione loro, avevano ragione loro, loro sono criticati, criticaticissimi, così si dice, loro sono criticati tutti, io sono stato zitto, io non sapevo, non ho appunti, io non ho un cazzo di niente, non ho niente, non ho un cazzo, io sono stato zitto, sono stato zitto, ho guardato attentamente i loro video perché non avevo voglia di guardare i video degli altri, tutti disperati, tutti disperati, tutti lukaku non arriva, è di qua, è di là, è di su, non arriva nessuno, tutti incazzati con la società, invece loro due trasmettevano tranquillità, io seguivo i loro video e loro avevano ragione, io mi sono fidato, quando tutti davano per certo lukaku alla juve, lukaku alla juve, loro non ci avevano preso, loro invece uno recalcati si stava, si stava arrendendo quando invece Fabio Bergomi non ha mai mollato la presa, e difatti Fabio Bergomi e anche vabbè, anche Chris e Recalcati avevano ragione, lui anche Subarella, Fabio Bergomi e sul fatto di Conte avevano ragione, questo, io mi sono fidato di loro, io seguo i loro video mi sono fidato di loro, poi se volete criticarli, se vi stanno sui coglioni, fate pure, io mi fido di loro, perché ok, magari Fabio Bergomi non ci ha preso con, parliamo ai tempi, con Marcelo la juve, non ci ha preso due anni fa, quando, due anni fa mi sembra quando è arrivato Spalletti lui diceva che arrivava Conte, però un anno dopo ci ha preso con Conte, va bene, e questo però la maggior parte delle volte ci prende, invece gli altri youtuber tutti disperati, tutti che non sapono far niente di qua e di là, però dopo loro criticano, loro però dopo loro criticano, gli altri criticano, come anche oggi c'è chi prendeva per il culo, chi fa, chi prendeva per il culo con la zucchina, con Lukaku, di qua e di là, loro prendevano per il culo e intanto Lukaku è arrivato, intanto Lukaku è arrivato, prendevano per il culo, ma intiristi, parlo di youtuber intiristi, prendevano per il culo e intanto Lukaku è arrivato, io, io non parlo, io adesso parlo come spettatore, perché non mi sentono di loro, perché loro hanno il doppio di iscritti di me, io faccio i miei video, faccio i miei tranquillamente, quindi non mi sentono di loro, io come voi, come li seguite voi, io seguo loro, però c'è da dire che io a differenza vostra mi sono fidato voi tutti, tutti a pigliare per il culo, tutti a pigliare per il culo di qua e di là, perché secondo voi, secondo voi, secondo voi, ecco adesso tutta questa cosa qua degli animalisti, tutte queste cose qua, secondo voi uno uccide un pappagallo? sì, cioè, era sicuro, avrà le sue fonti, non lo so che fonti ha, non voglio neanche saperlo, però avrà le sue fonti, avrà le sue fonti, o magari veramente spara a caso indovina, non lo so, questo non lo so, però io penso che le sue fonti ce le ha, quindi io prima di pigliare per il culo certa gente, io vi farei due domande, perché se voi volete continuare a pigliarli per il culo, a dire che non capiscono un cazzo di calcio, va bene, va bene, va bene, comunque, niente, cosa avete detto? Lukaku, a terra Torino, a terra Torino, aspettate, andate tutti a Torino, all'aeroporto, e aspettate Lukaku, sono contentissimo, adesso vedremo anche per Zecco, io intanto sto zitto perché io non so un cazzo, io seguo i video di queste persone qua, non guardo televisione, studio sport, sky sport, coso sport, cazzate varie, io non guardo un cazzo, io con queste due persone recalcate, io le guardo, poi dimenticavo, anche nel razzurro skin che lui è sempre stato positivo, mi sembra che non ho sempre visto i suoi video, però mi sembra che anche lui diceva che arrivava Lukaku, mi sembra, correggetemi se mi sbaglio, non era azzurro skin, anche lui, bisogna fare i complimenti anche lui, perché anche lui ha detto che Lukaku arrivava, mi sembra, anche lui ha detto che Lukaku arrivava, anche lui era uno molto positivo, non era uno di quelli di tutti, non arriva nessuno, dirigenza di merda, non arriva nessuno, non era uno di quelli, quindi faccio i complimenti anche a lui, a lui faccio i complimenti il doppio, ne era azzurro skin, ne lo ringrazio perché ne era azzurro skin, ogni tanto passa anche dai miei video a commentare, quindi lo ringrazio, lo ringrazio, gli faccio anche i complimenti. ragazzi, che dire, Lukaku, in Inghilterra ne parlano male, poi vabbè, invece, secondo me, magari non sarà Chris Mann, non sarà, che ne so, magari non sarà un fenomeno o così, però vabbè, però vabbè, Anticardi non è che ha questo grande fenomeno, però vabbè, li ha fatti, adesso c'è Romero Lukaku, e speriamo bene, benvenuto Romero Lukaku, benvenuto nella nostra grande famiglia nera azzurra, vi saluto con la Ferrarelle, sempre Forza Inter, complimenti a Cristiano Calcati, complimenti a Fabio Bergomi, complimenti anche a Nerazzurro Skin, che anche lui, anche lui è bravo, anche lui è bravo, poi vabbè, quei due, questi due personaggi, se volete pigliarli per il culo, pigliateli pure, io mi sono fidato e ho fatto bene a fidarmi per Barella, e ho fatto bene anche a fidarmi per Lukaku, poi per Zeco vedremo, magari per Zeco si sbagliano e voi fate le feste, perché voi siete così, voi godete, godete nelle papere altrui, chiamiamole papere, Forza Inter ragazzi, e ci rivediamo qua sul tubo, iscrivetevi al canale, lasciate un like, e qua non ci sono fonti, però qua rispettiamo chi ha le fonti, a differenza di altre persone che sanno solo sfottere, però non dicono un cazzo, fanno disperati, non arriva nessuna, sono tutte cazzate di calciavarcato, ciao!